Generatore di funzioni, esce una silusoide al massimo della tensione, va su questo elettromagnete e viene ricevuto da un transistor a effetti amplificato da un amplificatore di bassa frequenza e a questa distanza questa distanza riceve questo segnale questo segnale che va da 2 kHz a 20 kHz molto debole quindi la sensibilità è bassa rocchetto di lucro a questa breve distanza produce questo allontano, avvicino avvicino a questa distanza sensibilità molto bassa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti